Siamo ancora una volta negli uffici del MAIE, il movimento associativo italiano all'estero, qui alla Camera dei Deputati, questo era l'ufficio dell'indimenticato Mirko Tremaglia, storico ministro degli italiani nel mondo, ora qui c'è il MAIE, insieme a noi l'onorevole Riccardo Merlo, il presidente del MAIE, e vogliamo affrontare con lui prima di tutto il tema che riguarda i comites. Ad aprile si sono concluse le elezioni dei comites e il MAIE ha avuto davvero un grande successo. Ecco, è soddisfatto onorevole? Sì, non soddisfatto col risultato della partecipazione, perché evidentemente, come è stato fatto, non ha funzionato. Questo è stata, secondo me, una prova per vedere che così non si possono fare le elezioni, però noi anche con questo sistema abbiamo avuto un grande successo dappertutto. Io sono contentissimo con il risultato in tutto il mondo, in Europa, in Nord America, cioè in Sud America, in alcuni posti, il promedio in Argentina abbiamo preso il 70% dei voti, cioè quindi se ci fosse stata un'elezione politica in questo momento, forse invece di due facevamo tre deputati. Quindi per noi, noi abbiamo sempre valorizzato i comites, noi siamo dell'idea che i comites sono un'istituzione importante per gli italiani nel mondo, soprattutto perché i parlamentari non è che possono stare dappertutto, e poi perché coprono un ruolo importante nel rapporto che ha la comunità italiana e locale col console. Quindi per noi è stata un'elezione molto importante, abbiamo dato una grande importanza e quindi il risultato si è visto. In effetti il MAI ha davvero blindato il Sud America e ha ottenuto un grande successo nel resto del mondo. Voglio chiedere all'On. Merlo, è stata la prima volta che si è utilizzata la cosiddetta inversione dell'opzione. Lei ha parlato delle polemiche che ci sono state proprio riguardo questo nuovo meccanismo. In vista di elezioni politiche nazionali nel 2018, quando sarà, all'estero, ci sarà questa inversione dell'opzione, ovvero la necessità per il connazionale scritto all'aire di registrarsi a un albo dagli elettori per poter esprimere il proprio voto? L'intenzione del Governo, da quello che abbiamo capito, è di mantenere questo sistema? Secondo me non è l'intenzione del Governo mantenere questo sistema, soprattutto dopo il risultato. Quindi dice che non ci sarà la prossima volta questo? Io penso di no. Comunque questo tipo di elezioni ti assicura la trasparenza. Cioè è un'elezione trasparente perché vota veramente chi... Però la partecipazione è difficile fare una grande partecipazione con questo tipo di elezioni. Però in alcuni posti, per esempio in Bolivia c'è 20% di partecipazione, a Mar del Plata quasi il 15-20% di partecipazione. Ci sono stati dei posti dove la gente ha votato comunque. Ci vuole più lavoro da parte... Soprattutto non è stata neanche una comunicazione da parte del Governo perché i consolati non hanno avuto i soldi per fare la pubblicità, per spiegare alla gente che c'erano le elezioni dei comiti. Non è solo il sistema. Secondo me il Governo ha sbagliato una volta in più con gli italiani all'estero e con le politiche che non fa per gli italiani all'estero perché c'è il vuoto. Il problema non è che c'è una politica, c'è il vuoto. Ecco, passiamo dal Comites al CGE perché adesso, a svoltesi l'elezione del Comites, si rinnoverà il Consiglio Generale degli Italiani all'estero. Le polemiche sono infinite. Fra le varie cose c'è la situazione che riguarda la presenza, la rappresentanza degli italiani nel mondo all'interno del Consiglio. Quindi nel nuovo Consiglio CGE, di fatto, secondo il decreto che ha firmato la settimana scorsa il Ministro degli Esteri Gentiloni, non sono rappresentate tantissime aree del mondo. Oppure paesi come il Venezuela, che storicamente è un paese dove l'emigrazione italiana è assai presente, ha un solo consigliere. Per non parlare del Centro America, che personalmente mi interessa in particolare, che è rimasto senza consigliere CGE. Dunque, è questo il nuovo CGE che il Governo vuole? Tagliar via? Non so, dica a lei. Secondo me la polemica, come almeno la vediamo noi del Maie, è una polemica sbagliata. Perché qua il problema non è distribuire la povertà. Cioè, adesso litigare per chi paese ha un consigliere in più o che paese ha un consigliere in meno. Il problema è che il Governo ha tagliato 23 consiglieri. Cioè, questo l'hanno votato. Questo l'ha proposto il Governo Renzi. Per risparmiare 100.000, 120.000 euro all'anno. Io voglio dire alla gente, sapete quando prende il Partito Democratico all'anno come gruppo parlamentare? Più di 20 milioni di euro. Circa 25, direi. 25 milioni di euro. Il Movimento 5 Stelle prende 7 milioni di euro all'anno per avere un gruppo parlamentare, Camera e Senato. Quindi 120.000 euro per lasciare fuori del CGE tanti paesi. Il problema qua non è ridistribuire quello che c'è. Qua ci vuole ripristinare quelli che ci hanno tagliato, perché il Governo Renzi ci ha tagliato praticamente quasi tutto. Anche ha tagliato il CGE. E ha lasciato fuori anche tanti paesi importanti rappresentativi degli italiani di tutto il mondo. Anche paesi che avevano più consiglieri. Però questo non è un problema del sottosegretario Giron. E adesso dobbiamo cominciare a rivedere come si distribuiscono. Il problema è un problema di fondo. Se noi siamo d'accordo con un Governo che taglia tutto, ci taglia anche il consigliere del CGE, perché è una cosa incredibile. Siamo 18 rappresentanti in Parlamento. 14 votano questo Governo. Solo 4 siamo all'opposizione di queste politiche. Allora, vediamo... Quali sono questi 4? No, cioè, il MAI è Forza Italia. Poi gli altri sono tutti... Quando votano la fiducia, votano tutto a favore del Governo. Allora, secondo noi, noi interpretiamo il nostro ruolo così. Noi rappresentiamo gli italiani all'estero. Veniamo qui in Parlamento a votare per un Governo che rispetta gli italiani all'estero. Non un Governo che ignora gli italiani all'estero. Cioè, secondo me, noi abbiamo 6 senatori. Se questi 6 senatori si mettono a dialogare insieme fra di loro, e andiamo tutti da Renzi, diciamo, dobbiamo fare queste politiche, altrimenti noi non possiamo continuare a appoggiare un Governo che fa queste cose. Cioè, io non capisco com'è. 14 parlamentari eletti all'estero approvano un Governo che sta massacrando gli italiani all'estero e che secondo me è stato il peggiore di tutti, ancora peggiore di Berlusconi. Abbiamo intervistato l'altro giorno l'onorevole Marco Fedi, Partito Democratico, quando gli abbiamo chiesto ma di fronte a certe scelte che continuano a penalizzare gli italiani all'estero potrebbe presentarsi in una prossima occasione? Voi potreste, come eletti all'estero PD, far mancare la fiducia o il sostegno al Governo in Parlamento? Quindi per dire, beh, visto che voi ci trascurate, noi non possiamo votarvi perché il nostro elettorato sono gli italiani nel mondo e dunque noi non ce la sentiamo davvero di darvi il nostro sostegno. Ma Fedi ha risposto, ricatti del genere noi non ne possiamo fare. Dunque? Io rispetto Fedi perché è un parlamentare con una grande capacità e soprattutto con una grande onestà. Però non sono d'accordo in questo. Non si tratta di ricattare. A noi votano gli italiani all'estero con le preferenze. Cioè la gente che ti vota vuole che tu la rappresenti bene. Se tu vieni qui e il Governo fa una cosa a danno degli italiani all'estero, tu ti devi opporre. Non puoi dire tutto di sì perché altrimenti siamo ricattatori. Cioè se ricattare e dire no ai tagli, ai fondi per la promozione della lingua e la cultura, se ricattare e dire no a tagliare i 23 membri del CGE, se ricattare e dire no alla chiusura dell'ambasciata di Repubblica Dominicana, alla chiusura dell'Istituto Italiano di Vancouver, al Consolato di Montevideo, al Consolato di San Paolo, a tutti i consolati dell'ambasciata dove ci sono tanti italiani, allora io sono un ricattatore. Forse Matteo Renzi non l'è simpatico perché ogni volta lei ci dice che questo Governo massacra l'Italia, addirittura è peggio di quello che ha fatto Berlusconi. Sì, io anzi credo che sarei d'accordo in tante cose che Renzi fa in Italia, per esempio il Job Act. Noi l'abbiamo votato a favore perché crediamo che era una cosa necessaria per l'Italia, infatti adesso i risultati ci sono. Però noi siamo rappresentanti dell'italiano nel mondo, siamo stati votati per venire qui a rappresentare loro. Non possiamo accettare queste politiche. Questa è la discussione di fondo. Cioè, io vedo che fanno tutti ordini del giorno, comunicati stampa che non sono d'accordo, ma al momento di votare votano tutti. Ragazzi, cioè, diamoci una mossa, mettiamoci d'accordo e andiamo al Governo a dire devi fare queste 4-5 cose per gli italiani all'estero e poi sì che saremo tutti a appoggiare un Governo che faccia le cose bene. Non possiamo non essere d'accordo su questa filosofia e questa visione noi che da sempre ci occupiamo di italiani all'estero. Dunque, al di là delle posizioni politiche, delle casacche di partito, questo ci sembra puro buonsenso. Grecia. Nelle ultime settimane è venuta fuori l'ipotesi da più parti di una seconda moneta, una quasi moneta, come lei l'ha chiamata in occasione di una puntata di Porta a Porta a cui ha partecipato. Ecco, ricordo in quella puntata, perché ero presente in studio, qualche risatina da parte di Bruno Vespa o di Tabacci che era insieme a lei intervistato. Invece, anche dopo Berlusconi, che ha parlato di una possibilità di una seconda moneta, anche Matteo Salvini, leader della Lega Nord, ha rilanciato l'ipotesi di una moneta parallela. Dunque, Merlo aveva visto lontano? No, io credo che c'è una grande confusione. L'euro è molto importante, ma è uno strumento, non è un obiettivo in sé stesso, perché sembra che l'euro fosse un tabù, una cosa che non si può non toccare discutere. Secondo me, adesso sta succedendo in Grecia, c'è una cosa naturale, cioè Grecia non può pagare quel debito pubblico, non lo pagherà mai. Cioè, prima o poi la Grecia dovrà, cioè, tranne che ci sia una ristrutturazione del debito pubblico della Grecia e di altri paesi come l'Italia, che hanno un debito che supera largamente il 100% del prodotto lordo, bisogna cercare una soluzione che questa Europa, così com'è, non la dà. Cioè, questa Europa, così com'è, secondo me, non funziona. Io sono un ammiratore di tutto il processo di integrazione politica e economica dell'Unione Europea. Però, dopo, soprattutto, dieci anni fa, la cosa così non funziona. Allora, o ristrutturiamo anche l'Europa e cerchiamo anche alcune uscite creative più eterodosse, o faremo quello che dice la Merkel, cioè non sarà facile, soprattutto per tutti i paesi del sud dell'Europa. Io rispetto la Merkel, non è che no. Però sono realtà diverse. Cioè, non è naturale che la Grecia o il Portogale abbiano una moneta che in un momento costava il 40% di più che quella degli Stati Uniti, perché sono economie totalmente diverse. Cioè, bisogna ripensare come fare l'Unione Monetaria, come continuare avanti con l'integrazione politica e economica europea, che fare con il problema dell'immigrazione. Perché, se l'Europa non reagisce, ragazzi, noi dobbiamo fare qualcosa come l'Italia. Cioè, non possiamo aspettare a... Quindi su questo Renzi ha ragione. In questo io l'ho sentito. C'è un piano B, non so se l'ha detto, per ricatare, perché lui ricata, sembra, però io sono d'accordo. Se l'Europa non reagisce, noi dobbiamo cercare di governare il processo di immigrazione. L'Onorevole Italo-Argentino da una vita residente a Buenos Aires proprio nell'ultimo periodo ha incontrato uno dei candidati alla presidenza argentina. Le elezioni si terranno a novembre? Adesso, ad agosto, ci saranno le primarie, poi ad ottobre il primo turno e poi, se c'è il valutaggio, credo che saranno 20 giorni dopo. Ok, è importante dire che tutti e tre i candidati alla presidenza sono comunque di origine italiana. No, sono cittadini italiani. Sono cittadini italiani, questo per far capire quanta importanza abbia l'Italia e abbiano gli italiani. C'è solo una certezza. Il prossimo presidente in Argentina sarà italiano. Dunque, tra i tre abbiamo visto, abbiamo letto che c'è stato un incontro con Macri. Ha partecipato lei, l'Onorevole Borghese, che è il giovane deputato Maia, il senatore Zin. Ci vuol dire come è andata? Ci può accennare qualcosa? La cosa più importante di quell'incontro che Macri ci ha detto chiaramente, Macri è uno che ha il 50% di possibilità di vincere le elezioni, che se lui vince farà che gli italiani percepiscono la pensione in euro, se vogliono. Cioè, chi la vuole percepire in peso, che è la grande battaglia che noi abbiamo cominciato solitariamente, dico solitariamente perché neanche le altre forze politiche ci ha accompagnato in questa cosa, che non so perché. Abbiamo 33.000 italiani pensionati in Argentina che praticamente vedono che gli fanno un taglio del 40% nelle pensioni per il cambio che fanno e non li lasciano ricomprare gli euro. Quindi ogni pensionato in Argentina perde il 40-45% di quello che dovrebbe percepire. Quindi abbiamo parlato con Macri e Macri ci ha assicurato che se lui governa in pochi giorni o mesi lui farà che gli italiani possano percepire le pensioni se vogliono in euro. Per noi questo è una cosa importante, un atteggiamento importante. Sicuramente parleremo con l'altro, però con Daniel Scioli, che è il candidato dell'altro partito che ha possibilità di vincere, però lui già ha detto che lui continuerà con queste politiche e noi veramente ci sentiamo rappresentanti degli italiani nel mondo, quindi per noi è molto importante cercare che il prossimo governo in Argentina dia ai nostri pensionati la possibilità di prendere il suo stipendio bene, cioè normalmente, naturalmente, come è in tutto il resto del mondo. Sappiamo che nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è un dialogo tra il Maie e Forza Italia. Ci può dire a che punto siamo? C'è un eccellente dialogo con Vittorio Pessina, anche con altri esponenti di altre forze politiche. Noi adesso siamo l'opposizione, cioè siamo nello stesso schieramento di opporci a queste politiche di governo per l'italiana e all'estero, soprattutto, quindi c'è un dialogo. Ma la cosa importante è cercare di arrivare alle prossime elezioni politiche con un accordo che sia, dal punto di vista elettorale, importante per i nostri candidati in tutto il mondo. Questo è un messaggio per tutti che si devono preparare perché saranno protagonisti un'altra volta nelle prossime elezioni per tutti i candidati del Maie. L'altra cosa, perché noi dovremmo fare ai principali partiti italiani cercare che firmare un documento, un accordo, un contratto politico perché ci sia finalmente una politica per l'italiana e all'estero. Perché a me dà molta tristezza dire che da quando siamo arrivati qui ancora non abbiamo mai avuto una politica per gli italiani nel mondo. L'unica cosa che avevamo avuto sono stati i tagli, c'è stata una ignoranza totale a tutte le nostre richieste. Ma gli italiani all'estero, mi scusi se la interrompo, perché lei dice cose sacrosante, ma gli italiani all'estero che sono arrabbiatissimi per questo. Cioè dicono, dal 2006 abbiamo dei rappresentanti in Parlamento, sono 18 e non abbiamo visto un cambio di qualità concreto nella nostra vita di italiani nel mondo. Lei, a chi è arrabbiatissimo per usare un eufemismo, quale messaggio vuole dare? Quanta pazienza ancora dovranno avere gli italiani nel mondo prima di vedere qualcosa, qualche obiettivo vero raggiunto? Prima di tutto che hanno ragione. Anch'io sono arrabbiato. La prima cosa che devo dire. Seconda cosa che non siamo tutti uguali, perché noi votiamo con autonomia sempre pensando negli interessi degli italiani nel mondo. Cioè possiamo sbagliare, ma non è che veniamo qua e ci dicono cosa votare e cosa non votare, anche se contro gli italiani nel mondo. Perché tutti questi tagli che sono stati fatti sono stati votati dalla maggioranza con finanziarie che ci tagliavano tutti. Cioè una grande quantità dei nostri fondi. Quindi adesso, secondo me, la cosa importante sarebbe cercare di unire. Unire a tutti gli italiani nel mondo all'estero e soprattutto a tutti i nostri rappresentanti in Parlamento. Anche se qualcuno viene per un partito, io la penso così, noi la pensiamo così, cercare che non è che uno viene qua e c'è una obbedienza, in spagnolo si dice obbedienza a la vita, cioè una obbedienza per tutta la vita, cioè non è che uno deve venire qua e accettare qualsiasi cosa. Cioè, secondo me, noi siamo in 18, 12 deputati e 6 senatori, se ci mettessimo d'accordo tutti insieme, sicuramente la cosa, la musica potrebbe cambiare. è il messaggio che noi con molta pazienza stiamo portando avanti e continueremo a portare. Perciò è molto importante questo di fare accordi con i partiti politici principali come italiani all'estero, cercare di firmare prima un accordo programmatico, prima che cominciano le elezioni, cioè un accordo programmatico con un partito importante in Italia, come è il nostro spirito, e il messaggio a tutti i nostri punti di riferimento in tutto il mondo è che nelle prossime elezioni i candidati Maie avranno una grande opportunità non solo in Sud America, anche in Nord America, in Australia e in Europa. Lei ha proposto in passato un gruppo unico degli italiani nel mondo, proprio perché così voi, 18 eletti all'estero, avreste avuto la possibilità appunto di agire compatti e uniti nei confronti del governo, quello che lei ha appena detto. e nei giorni scorsi mi tocca citare un'altra volta l'onorevole Marco Fedi del PD, ha detto fra Camera e Senato serve più sinergia. Quindi forse anche è un po' lo stesso, anche dal PD cominciano a capire che c'è davvero bisogno di compattezza tra voi eletti oltre confini. Sì, soprattutto voi pensate una cosa, cioè questa è una cosa molto semplice che lo capiscono tutti, sei senatori oggi, avere sei senatori in Senato, se ci mettiamo insieme, se andiamo al governo a dire come ha fatto Renzi, gli ha detto all'Europa se voi non prendete gli immigranti noi abbiamo un piano B. Allora, se voi non fate questa politica noi abbiamo un piano B. Il piano B è non votare più la fiducia a questo governo. Allora, dobbiamo veramente arrivare a quel momento, altrimenti continueranno queste non politiche per gli italiani nel mondo e questo tratto che ci dà il governo Renzi lui anche come primo ministro che veramente ci ha ignorato fino ad oggi, cioè noi per questo governo non esistiamo. Lei è in partenza per il Paraguay domani, giusto? Sì, domani parto in Sud America, cioè andiamo a visitare le diverse comunità in tutto il Sud America anche quelle che sono più piccole come il Paraguay, stiamo anche programmando una visita in Bolivia dove ci saranno credo che sono 10.000 8.000 italiani però noi vorremmo essere dappertutto sempre vicino alla gente anche per conoscere quelle realtà perché adesso tornando al CGE un parlamentare non è che può stare in tutti i paesi perciò è importante il CGE perché il CGE oltre a produrre una grande quantità di documenti che ci hanno servito tantissimo al momento di presentare le nostre proposte di leggi è un posto dove uno va e trova rappresentanti dei paesi che non sono direttamente rappresentanti nel Parlamento italiano quindi il CGE dovrebbe essere veramente rinnovato riformato aumentando tornando al numero precedente di consiglieri cioè aumentando la qualità e la capacità nelle decisioni politiche del governo italiano di questa istituzione che secondo me è molto importante per tutti gli italiani nel mondo Onorevole Merlo l'aspettiamo in Centro America anche leggi italiane l'aspettano per conoscerla personalmente per parlare con lei degli tanti problemi che hanno dopo la chiusura dell'ambasciata di Santo Domingo un saluto un saluto grazie per il suo tempo e alla prossima grazie a tutti a tutti per la chiusura